Ciao, sono Cinzia De Falco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di local marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, io sono Cinzia De Falco, voi siete su Marketing per negozianti, soluzioni vincenti per attività locali. Ricordiamolo come sempre, Marketing per negozianti è il primo ed unico podcast interamente in italiano dedicato alle vostre attività sul territorio. E questo è il nostro solito martedì dopo le vacanze pasquali e spero e mi auguro che abbiate passato serenamente la Pasqua con le persone che amate, ma non dimentichiamo il nostro business. Ed oggi voglio rispondere alla domanda di Marco, che è una domanda molto interessante, e mi ha chiesto se invece volessi migliorare le ricerche su YouTube o altre piattaforme social, come posso fare? Quindi ho preso subito la palla in balzo perché è una domanda davvero interessante e voglio risponderlo e rispondere anche a voi che sicuramente potete trarne degli spunti interessanti e potete andare a migliorare ancor più la visibilità della vostra attività. Allora tutti, diciamo, i principali social media dispongono di una funzionalità di ricerca che attrae chiaramente sempre più utenti. Ma quindi che cosa succede? Che cerchiamo direttamente video su YouTube, ad esempio digitando il nome di un negozio, direttamente il motore di ricerca di Facebook. Ma come fare quindi a migliorare la visibilità e la presenza della vostra azienda proprio in questi luoghi di ricerca, come Facebook o YouTube? La prima regola è essere presente chiaramente con una pagina, un profilo o un canale ufficiale della vostra azienda, per poi andare a popolarlo di contenuti di qualità e soprattutto, mi dispiace dirvelo, insomma, investire in campagne di advertising, campagne pubblicitarie. Perché non c'è altro modo oggi se non pagare chiaramente il traffico, che permette però all'azienda di farsi notare sia per ricerche dirette, sia nel caso del diciamo bisogno latente, della domanda latente. Allora, per quanto riguarda i contenuti testuali, titoli e descrizioni dei video post su Facebook, valgono tutte le indicazioni date, diciamo, in precedenza sulla sezione dei contenuti, no? Scegliere delle parole chiave giuste, dare dei titoli intelligenti alle immagini, testi semplici, diretti, evitare delle metafore, evitare riferimenti non comprensibili a un motore di ricerca. Il posizionamento in questi luoghi che stiamo dicendo come Facebook o YouTube, quindi in questi luoghi di incontro e se vogliamo di interazione sociale, dipende poi da quanto i nostri, quindi i vostri contenuti, sono graditi dalle persone e da come queste interagiscono. Nel caso di YouTube, per esempio, contano il numero di visualizzazioni, la loro durata, il numero dei commenti, dei mi piace, la maggior parte delle piattaforme social, ricordatevelo, utilizza indicatori di gradimento e interazione per dare, diciamo, un peso ai contenuti. Che dovete fare quindi per migliorare questa visibilità? Anche in questo caso è strategico produrre contenuti di qualità e favorire l'interazione, la relazione, essendo, diciamo, per primi attivi e creando ancora meglio una community di appassionati attorno alla vostra azienda. Perché se intervenite con contributi utili, intelligenti, di valore, tra le persone che rappresentano la community di riferimento, chiaramente di conseguenza avrò che queste stesse persone vedranno i video sul mio canale YouTube e magari lasciano il loro feedback. Non ultimo, ricordatevi che su Twitter e Instagram, molto meno su Facebook, ma su Twitter e Instagram molta importanza hanno, ad esempio, gli hashtag, no? Che vi consentono, diciamo così, di selezionare un determinato argomento. Farsi trovare in queste piattaforme, che cosa significa? Significa quindi anche selezionare e utilizzare quelle particolari parole chiave che sono gli hashtag. Quindi spero di aver, diciamo, risposto in maniera sia ostiva al nostro marco, ma soprattutto di aver dato ancora più uno spunto per andare ad ottimizzare sempre di più questi vostri canali social. Perché ricordatevi, quello che vi dico sempre, quello che vince è la multicanalità. Dobbiamo essere ormai oggi presenti su tutti i canali, naturalmente andando a declinare in base ai contenuti, in base alla natura del canale scelto, ma dobbiamo essere presenti ovunque, in modalità diverse, andando a rispettare quella che è la prerogativa del singolo canale. Spero anche oggi di avervi dato, come sempre, un utile consiglio. Continuate a farmi domande che sono super felice di rispondervi. Vi lascio adesso al vostro caffè e come sempre vi aspetto al prossimo martedì. Ciao!